Ragazzi buonasera a tutti bentornati su Crypto Salad, io sono Federico, oggi è il 10 novembre 2022 Bitcoin 17.200 dollari in questo momento. Ragazzi guardiamo insieme la situazione, giornate di panico, altissima tensione tra ieri e l'altro ieri, Bitcoin crea un nuovo minimo per l'anno 2022 che si trova a 15.600 dollari, recupera leggermente nella giornata di oggi, recupera 17.000 dollari in questo momento. Guardiamo insieme la situazione, diversi time frame giornaliero, settimanale e mensile, cerchiamo anche di capire come è cambiata la situazione a seguito di questi ribassi per Bitcoin. Quindi come al solito se vi sembra interessante lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, cliccate la campanella per le notifiche, lasciate i vostri messaggi. Ragazzi piccola premessa, logicamente quanto vediamo sulla chart è sicuramente influenzato nel breve da quelle che sono le notizie che escono, soprattutto in particolare la FAD relativa ad FTX, la possibile acquisizione da parte di Binance che successivamente poi è stata, che è saltata, è stata smentita e logicamente anche i dati sull'inflazione. Noi proviamo però a concentrarci su quello che ci dicono le chart in termini di supporti e resistenze soprattutto orizzontali. Ovviamente ragazzi sono anche vicino per quanto possibile a tutte le persone che purtroppo hanno perso dei soldi sull'account con la vicenda di FTX, quindi in qualche modo mi sento di esservi vicino per quanto possibile. Ragazzi guardiamo la chart, vediamo che nel mese di novembre il livello del CPR che si trovava tra i 19.6 e i 20.100 è stato violato come possibile supporto, quindi Bitcoin fallisce di raggiungere il target R1 del mese di novembre e piomba verso il basso mangiando il supporto del CPR andando a S1, S2 e fermandosi precisamente al target di supporto numero 3 del mese di novembre. Quindi in questo momento Bitcoin si ferma al target S3 che è uno dei più importanti target che ci siano mensili, quindi dopo S1 di solito S2, difficilmente il prezzo si ferma intorno a S2 e raggiunge anche S3. Così è stato, siamo scesi al di sotto di S3 e abbiamo chiuso il giorno sopra S3, anche oggi siamo scesi sotto S3 ma abbiamo visto un interessante rialzo con Bitcoin che recupera un po' di punti percentuali persi nella giornata di ieri, più o meno un 9% nelle ultime ore, sicuramente aiutato anche dai dati dell'inflazione americana al di sotto delle aspettative. Vediamo che in questo momento ragazzi l'outlook resta ribassista per il mese attuale, abbiamo il CPR che è molto lontano dal prezzo, quindi può essere che Bitcoin nel suo rimbalzo trovi la resistenza dei precedenti livelli di supporto, quindi può essere che trovi la resistenza di S1 o eventualmente di S2, 17.000 e ovviamente possiamo dire di essere fuori pericolo nei momenti in cui Bitcoin andrà a riconquistare eventualmente il CPR a 19.900 dollari, quindi più o meno sopra i 20.000 potremmo forse dire guardando questo grafico di essere fuori pericolo nel breve. Se guardiamo quali sono altri potenziali target ribassisti sempre utilizzando i livelli orizzontali del CPR, vediamo che questo indicatore ne mostra di più, siamo arrivati vedete ad S3, abbiamo S4 14.700, S5 13.500, sotto S5 è difficile andare, perlomeno così non è stato neanche mi sembra di ricordare durante il Covid crash del marzo 2020, quindi siamo arrivati ad S5 e di lì abbiamo rimbalzato, quindi l'ultimo target ribassista del mese, 13.537. Se vediamo poi altri grafici, qua siamo sui tre giorni, quindi time frame dei tre giorni, c'è un'importante divergenza ribassista che si concretizzerà, scusate rialzista, che si concretizzerà tra un giorno e sette ore, quindi la chiusura della candela dei tre giorni, abbiamo un low, un lower low, mentre abbiamo l'RSI che per adesso sta formando un chiaro higher low, ovviamente dobbiamo aspettare, come dicevamo, la chiusura della candela. Abbiamo il time frame settimanale con la media mobile smoothed, quindi la smoothed moving average dei 200 periodi sul settimanale, una media mobile che è stata toccata diverse volte nel 2015, quindi il bottom del bear market si è mosso intorno a questa media mobile, non è stata toccata in questa circostanza, è stata toccata durante il Covid crash e sicuramente toccata in questa fase di bear market. Se andiamo a zoomare, vediamo che abbiamo toccato la media mobile in una prima circostanza durante il bottom di giugno, quindi 17.700 e siamo al di sotto della stessa in questo momento, quindi sarebbe importante eventualmente vedere una chiusura settimanale sopra i 18.200 dollari per confermare effettivamente l'avvenuta del supporto. Se guardiamo poi, vi tolgo la media mobile, se guardiamo poi sempre paragonando con gli altri bear market utilizzando i livelli di Fibonacci su scala non logaritmica, vediamo che puntando il, anzi iniziamo dal bear market precedente. Quindi dal bottom del 2011 fino al top del 2015 vediamo che il bottom, cerchiamo di essere precisi, il bottom se no mi cazziate, il bottom è arrivato in prossimità del livello dello 0.78, nel, adesso ve lo tolgo così c'è più ordine, nel bottom successivo, anche qui andiamo precisi, quindi vediamo che il bottom qui particolare che siamo andati leggermente al di sotto, quindi la fase di bear market è stata al di sotto dello 0.78, abbiamo toccato questa zona durante il covid crash e in questa fase non è molto diverso, nel senso che dal bottom 2018 fino al top 69.000 vediamo che qua dipende logicamente se consideriamo come top il 68.000 o il 64, però considerando l'all time high di 68.000 l'abbiamo sfiorato qui e siamo andati al di sotto dello stesso qui, quindi mi aspetto che la zona di bottom come nel 2015 possa venire in questa zona, quindi anche nel 2018 come abbiamo visto ci siamo andati leggermente al di sotto del livello dello 0.78 ma dovrebbe restare più o meno in questa zona, se guardiamo poi il time frame dei due mesi, vediamo che sicuramente una zona molto importante è la zona come già commentavamo insieme, è la zona che va più o meno vicino ai 14.000, quindi avevamo questi livelli principali, quindi l'all time high, 2.000, ve lo zoom un po', allora l'all time high abbiamo il massimo raggiunto nel 2018, quindi prima del collasso, 17.250 che è più o meno dove ci troviamo adesso e poi se consideriamo gli altri livelli abbiamo come altro punto molto importante il livello dei 13.880 che è il livello di chiusura delle candele di gennaio e di dicembre 2017 e di apertura ovviamente di gennaio 2018 e il top del mini bull market che c'è stato nel 2019, quindi questi sono i tre livelli più importanti direi, 19.590, 17.245 e 13.880. In questo momento sicuramente il posizionamento dei trader, quindi in questo momento siamo in una fase di grande panico ed è anche confermato dal funding rate che ha visto un'impennata verso il basso, quindi una capitolazione probabilmente di moltissimi long, molto simile a quello che abbiamo visto durante il covid crash, durante il crash che c'è stato nel 2021, quindi maggio 2021 e una simile circostanza c'è stata nella giornata di ieri, quindi abbiamo visto un'esplosione del funding rate negativo confermato anche da questo grafico, vedete che è tutto negativo, questo vuol dire che c'è chi era long, in qualche modo è stato forzato a chiudere le sue posizioni, magari liquidato dal prezzo che ha raggiunto livelli che non si aspettava o comunque si trader che si posizionano eventualmente short per anticipare l'eventuale ribasso aspettato. Quindi ragazzi stiamo a vedere insieme come si svilupperà la situazione, i livelli importanti li abbiamo guardati, mi raccomando come al solito prestiamo la massima attenzione, sono sicuro che un giorno questi prezzi rappresenteranno un brutto ricordo e sicuramente un'importante opportunità come è stato durante i precedenti, le precedenti fasi ribassiste dove sembra veramente che non ci sia fine al peggio. Quindi ragazzi per oggi è tutto, grazie per la vostra attenzione, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!